ben ritornati nuovo su review you prima di iniziare con questa video recensione di questi pantaloni acquistati da decathlon vi invito a mettere un like e di iscrivervi al canale perché usciranno nuovissime video recensioni allora partiamo subito col modello si tratta dei pantaloni mimetici 300 della solognac sempre solo anni a che questo diciamo marca da caccia d'abbigliamento da caccia di decathlon diciamo che lo acquistati per pescare quindi per mimetizzarmi nel bosco nella vegetazione anche perché sapete quando andate a pescare le trote nel fiume nei fiumi diciamo del della montagna del bosco se indossate dell'abbigliamento visibile la trota comunque riesce a vedervi e si spaventa si rintana quindi in qualche modo un abbigliamento mimetico come nella caccia va bene anche serve anche per la pesca soprattutto nella natura selvaggia andiamo subito a vedere questi pantaloni che come vedete hanno una trama mimetica militare verde marroncino nero ma c'è anche sul sito la possibilità di prendere di grigio bianco nero quindi l'altra diciamo camouflage sempre ma in versione grigio chiara ne vado ad aprire taglia s anche qui ho seguito diciamo le indicazioni sul sito ma essendo che una girovita di 86 centimetri mi risulta da essere un po stretta quindi se ci sarà la possibilità di prendere una taglia in più lo farò gli cambierò anche perché sono davvero molto belli li ho pagati circa 20 euro abbiamo una taschina con cerniera a sinistra come vedete è una taschina dove c'è anche la marca solonia sulla destra che si apre tramite il velcro due taschine molto comode da una parte dall'altra e sul retro abbiamo una tasca con apertura col velcro l'interno è comunque lo faccio vedere bianco diciamo il retro della stoffa e il materiale è davvero un materiale resistente si sente che resistente ma comunque neanche troppo pesante quindi secondo me anche indossarli in questo periodo primaverile dovrebbero anche essere leggeri e non ci fanno in qualche modo sudare abbiamo i passanti ovviamente per la cintura la zip bottone e poi c'è sempre questo elastico qui sui dati fatemi sapere se vi piacciono questi pantaloni secondo me sono davvero carini devo dire che sono carini anche per il prezzo molto accessibile vi faccio vedere anche giusto qua sono anche piuttosto stretti verso il basso quindi non cadono neanche troppo a zampa di elefante come posso dire quindi si vestono anche molto bene se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela lasciate un commento un vostro feedback ci vediamo alla prossima recensione grazie a tutti